Ciao Top Driver, qui Alberto Di Teresa di ADT eSports Academy. Benvenuto su questo nuovo video in collaborazione con Gamers World Live. Oggi siamo ad Hockenheim, un circuito dove per i piloti è sempre molto divertente guidare e i sorpassi sono agevoli, quindi in pista c'è sempre tanto spettacolo. Ora andiamo a board a vedere il giro di ADT Kowalski. Stiamo per iniziare il giro veloce e cerchiamo come sempre di lanciarci il meglio possibile. Fai un movimento di preparazione in rettilineo che ti consente di metterti bene sul cordo all'esterno, perché devi essere precisissimo a tagliare curva 1 e qui nel dubbio tieni giù, anche perché ti aiuta a tenere incollata la vettura a terra. A curva 2 prendi la striscia di asfalto come riferimento in frenata e vedi dentro il breaking. Qui conta solo quanta trazione in uscita, ricordalo perché il rettilineo è bello lungo. Stai molto interno cucita al cordolo, così risparmi centimetri che si trasformano in millesimi bonus. Al tornantino, anche qui asfalto verde alato come riferimento dopo i 100, perfetto il punto di corda ritardato e la velocità di percorrenza in ingresso. Qui abbiamo guadagnato parecchio tempo, ottima anche la trazione in uscita, qui è molto importante accelerare bene, specialmente per difenderti o incrociare quando sei in battaglia. Ora inizia la parte più tecnica del tracciato, dove devi essere molto scorrevale a livello di guida e avere una vettura che sia sui binari in inserimento. Lavora particolarmente sulle bar antirollio per trovare il giusto bilanciamento meccanico. Curva veloce a destra, occhio alle sconnessioni e metti le ruote nei punti giusti, prendendo il cordolo in entrata e in uscita. E full gas verso la curva Sachs, dove puoi fare linee diverse, ma devi far chiudere la vettura prima possibile e gestire il sovrasterzo a retrotreno. Qui devi essere molto aggressivo ed entrare forte, puoi raccordare bene per l'ultima curva e andare full gas sfruttando tutta la pista. Io ti aspetto nel mio gruppo privato su Facebook e come sempre nel dubbio tieni giù! Ciao Top Driver!